inducono la secrezione degli ormoni, questi ormoni vanno nel sangue a loro volta e attraverso il sangue raggiungono di nuovo i neuroni. Questi neuroni hanno i recettori alla loro superficie per gli ormoni e quindi si instaura un circuito a feedback di autoregolazione. Questi inducono la secrezione degli ormoni, controllano quanto ormone è stato prodotto. Visto da questo punto di vista, seppur così succintamente e rapidamente, il meccanismo appare molto semplice, di tipo meccanicistico, quasi da iatro meccanico, però Alfonso Borelli ormai sono 400 anni che ci ha lasciato i suoi messaggi e su un modello di questo genere sembra abbastanza facile poter intervenire, non sembra, ormai da parecchi decenni si interviene soprattutto in via farmacologica. Quello che non riuscite a leggere è questo, sono queste righe nere che si proiettano sui neuroni, cioè questi neuroni che hanno i recettori per gli ormoni e via discorrendo ricevono numerose segnali da tutte le strutture più ampie, più evolute del sistema nervoso centrale, ricevono e mandano in doppia via e ad esempio mandano un po' a tutte le parti e le parti più antiche, compresa questa regione che sulla faccia mediale dell'emisfero ma compresa altre regioni che vedremo tra poco, che è la circonvoluzione del cingolo, culturalmente associata alla memoria a breve termine, ma che in realtà è associata soprattutto anche a funzioni emozionali e di gratificazione. E qui apro una parentesi, da chi riceve proiezioni dall'esterno l'ipotalamo fra le tante strutture e prendo ad esempio perché è uno dei dati più recenti che ha poco più di una decina d'anni, il nervo vago, il nervo vago è un nervo cranico, un grande nervo che nasce dal tronco encefalico, arriva nel tronco e nell'addome e il nervo che praticamente ha dato le basi per la costruzione della medicina psicosomatica. Le proiezioni del vago, per esempio per un'ulcera gastrica, arrivano a proiettare gli emisferi frontali, quindi un'ulcera gastrica e una gastrite possono dare un comportamento del tono dell'onore con la persona che diventi irascibile, facilmente irritabile e via discorrendo. Alla stessa maniera possiamo avere la via inversa, grosse preoccupazioni attraverso queste vie nervose possono modificare la secrezione gastrica e portare a un'erosione della parete stessa. Ebbene fino a una quindicina d'anni fa si pensava con fasi alterne culturali che il nervo vago arrivasse a innervare solo una parte dell'intestino crasso. Negli ultimi 15 anni si è dimostrato che il nervo vago arriva a innervare anche, soprattutto nella donna è chiaramente dimostrato, anche i genitali femminili fino alla vagina. E fece molto scalpore, una quindicina d'anni fa, quando uscirono i primi dati, questo è il lavoro più esteso, di un gruppo di ricercatori americani che dimostrò in donne con traumi completi, alti, toracici del midollo spinale attraverso la stimolazione vaginale con degli stimolatori tipo quelli che vengono utilizzati per la reeducazione del pavimento pelvico potevano comunque, con l'esclusione del midollo spinale, raggiungere l'orgasmo. Una doppia via anatomica, una del midollo spinale, un'altra dal nervo vago. E qual è la strada che fa il nervo vago per arrivare a queste strutture? Arriva una parte del diencefalo, che è sempre una parte che poi è la parte più ampia che conterrà anche l'ipotalamo, proietta questi nuclei che vedete in blè azzurro attraverso questi, a questi altri nuclei talamici in verde che vanno a proiettare sulla parte anteriore dell'emisfero cerebrale, su quelli che sono i lobi frontali, che sono la sede, come vedete, del controllo del comportamento, dell'intelligenza superiore, della razionalità e del comportamento in generale. Queste sono state le evidenze che sono state dimostrate dalla stimolazione vagale nelle condizioni del lavoro che vi ho descritto prima, condizioni di riposo, e vedete come la stimolazione vagale possa portare a una segnale e a un'attivazione diffusa praticamente di tutto il cervello, di tutte le regioni, ma andando a selezionare attraverso queste tecniche di risonanza magnetica funzionale, si vede come le strutture sicuramente, strutture nuove, strutture antiche, anche le strutture frontali, ma vedete lo stesso ipotalamo, che è quella struttura che viene a correlare e a controllare quelle che sono le funzioni endocrine, lo stesso ipotalamo, viene a essere direttamente stimolato. E quindi un controllo nervoso superiore e dall'esterno di questa struttura. E allora la conclusione, e con questo spero di essere rimasto nei tempi che mi sono stati assegnati, parte da lontano. Cartesio, a Cartesio dobbiamo tutto, o tanto da un grande filosofo, cui dobbiamo sia per il metodo scientifico che per la filosofia della scienza. Cosciente o, per opportunità, non sappiamo, ma Cartesio fece una netta, mantendo una netta distinzione tra Soma e Psiche, mantenendo strettamente separate le due cose. Oggi è chiaramente dimostrato, e qui rapidamente vi ho portato un esempio, come queste due strutture siano invece estremamente correlate. Psiche e Soma, sessualità e riproduzione. Nentre nella parte al di sotto dell'ipofisi conosciamo abbastanza, non tutti i meccanismi, nella parte superiore noi non conosciamo praticamente assolutamente niente. Sappiamo dell'esistenza di un fenomeno. E io credo che andare avanti in questo discorso, accettando teoricamente la separazione tra Soma e Psiche, sarebbe un errore gravissimo, perché noi andiamo ad affrontare un mondo del quale siamo completamente all'oscuro e da un punto di vista etico, evoluzionistico, bioetico e sotto tutti questi aspetti, ignorare questa dualità o questo legame tra queste due strutture potrebbe comportare dei pericoli veramente gravi o importanti.